È passato un anno da quel tragico 16 agosto quando Angela Vignaga, studentessa quindicenne, perse la vita mentre portava a spasso il cane vicino casa, travolta da un pirata della strada. La comunità arzignanese, in particolare quella di Castello, ricorda la giovane attraverso un momento di preghiera e rinnova così la vicinanza con la famiglia. Feremo suonare anche un segno di campana per avvisare tutte le comunità, anche quelli che non possono uscire, che ci ritroviamo insieme per pregare insieme per Angela e per la sua famiglia. Una messa celebrata da Don Mariano Lovato alle ore 20 nel luogo dell'incidente, dove l'anno scorso tutti gli amici si erano riuniti organizzando una fiaccolata partecipata da 2000 persone partita dal Parco Giuriolo fino a Via Broggia, il senso era stato allora quello di fermarsi dove qualcuno, che oggi ha un nome e un cognome, non si era fermato. Vorrei ricordare che nel silenzio espremiamo la nostra vicinanza al papà Diego, alla mamma Luisa, alla sorella Emma, al fratellino Giovanni.